Oggi parleremo del libro Omae di Luigi D'Arlando. E' piaciuto il libro? Si, molto perché è una storia entusiasmante. Chi sono i personaggi principali di questo libro? I personaggi principali di questo libro sono Filippo che è il protagonista, è un ragazzino nei 13 anni e poi ci sono anche il professore della sua scuola che lo aiuta nei compiti e Omae che è appunto il proprietario della palestra. Dove è stato ambientato il racconto? Il racconto è stato ambientato a Scampia. Ma perché proprio quel posto? Perché è una zona malfamata di Napoli e Luigi D'Arlando voleva far capire ai ragazzini di ogni posto com'è difficile, com'è dura la vita. Quali sono gli argomenti principali di questo libro? Questo libro parla di Camorra che è la... Quali sono gli argomenti principali di questo libro? La Camorra è il Judo e il Judo è inteso non solo come Judo ma come sport perché lo sport ha aiutato Filippo ad uscire dalla Camorra. Ora, vi è piaciuto il libro? Io vi consiglio di comprarvelo. Grazie per la visione. Grazie per la visione.